C'è un'altra cosa che mi conforta mentre cammino che è vero che non c'è sta Sara oggi ma noi qua stiamo dove dovemo sta Io non capisco un cazzo le poesie ma ce n'è sta una che mi è rimasta un capoccia da quando ero ragazzino De Calamandrei che dice se su queste strade vorrai tornare ai nostri posti ci ritroverai E' una cifra retorica detta così ma se gli elevi tutto il vestito pomposo e gli lasci solo il nocciolo l'essenza è sta gente qua che c'ha mille cazzi e 14.000 contraddizioni ma quando serve sta qua perché è il posto dove deve sta Con loro pure che mi arrestano me lo posso rivendicare almeno davanti allo specchio dico Sì chiaro non è che t'hanno arrestato perché hai tirato fuori il cazzo davanti a un centro anziani mi pare una consolazione relativa ma a sto punto aggrappamos a tutto che te devo dire?